Porca vacca ragazzi, scusate se inizio così ma veramente porca vacca ragazzi. Sono contento della partita della Juventus perché secondo me stasera abbiamo fatto una gran bella prestazione. Sono preoccupato per le condizioni fisiche dei giocatori, in particolar modo per quelle di chiesa. Anticipo la domanda, anticipo la risposta perché non è stato sostituito e abbiamo finito gli slot. C'è stato l'infortunio di Alexandra nel primo tempo, primo slot, l'ingresso di chiesa secondo slot, l'ingresso di Kent terzo slot con Fagioli che era entrato nell'intervallo che non conta come slot. Quindi avevamo ancora un cambio ma avevamo esaurito gli slot, per quello chiesa è dovuto rimanere in campo. Le opzioni erano giocare con un uomo in meno o tenere in campo chiesa. Sinceramente per quello che è stato il recente passato di chiesa avrei preferito non averlo nemmeno in campo. Sinceramente. Vedremo che cosa c'è, sembra essere un problema al ginocchio, l'altro ginocchio non quello operato però se davvero così sarà... Non voglio nemmeno pensarci, non voglio nemmeno affrontare questo argomento. Mi fermo qui che è meglio, non abbiamo ancora la possibilità di parlare di questa cosa. E dicevo, sono soddisfatto di questa partita, sono però triste del fatto che non siamo riusciti a chiuderla con più di un gol di scarto. Perché essendo una partita andata e ritorno ed essendo che la Juve ha fatto una buonissima prestazione, serveva almeno un altro gol per non rischiare di mettere tutto in discussione in Germania. Mi è sembrata una partita sulla falsa riga di quella del Nant. Una partita in cui comunque la Juve le sue occasioni l'ha avute. C'è una buona dose di sfortuna, l'altra volta era stata sfortunata con dei pali e questa volta è stata sfortunata con degli infortuni. Anche quello di Alessandro che non era al meglio, sembrava aver recuperato, era partito al primo minuto e poi invece deve lasciare il campo dopo 22 minuti a Leonardo Bonucci. Non è fortunata nemmeno con Di Maria che secondo me qualcosina ha sentito tirare. Perché verso la fine della partita ha iniziato a fare un po' di stretching ai muscoli. Non credo che sia un problema particolarmente grosso, però anche lui non sembrava proprio al 100% e poi di Chiesa abbiamo già parlato. Io non credo che sia una coincidenza che la Juve faccia una partita più intensa, vada a creare più occasioni da golle e poi ne vada a risentire a livello fisico. No, penso proprio che non sia una coincidenza, anzi può essere proprio dato dal fatto che non siamo abituati a giocare a questi ritmi. Quindi credo che la Juventus stasera meritasse almeno un gol in più. Purtroppo ci siamo mangiati delle occasioni. C'è stata l'occasione di Vlaovic nel primo tempo, quella di testa, c'è stata l'occasione di Bremer nel primo tempo, quella sempre di testa. Ci sono state un paio di punizioni di quadrato, una di Vlaovic sempre nel primo tempo. C'è stata quell'azione in cui Rabiot poi non mette il pallone a rimorchio ma va a tirare in porta il portiere che para. Nel secondo tempo ci sono state un sacco di occasioni, anche quella di Fagioni nel finale che aveva secondo me anche calciato bene. Una Juve che stasera mi è piaciuta, mi è piaciuta e non meritava assolutamente la vittoria come un solo gol di scarto. E poi che cosa succede? Queste partite qui, a maggior ragione contro queste squadre qui, che secondo me il Friburgo ha fatto la partita che doveva fare. Perché viene a Torino, una squadra che ha poca tradizione europea, una squadra che fuori casa fa anche molta fatica. Andare a casa con un solo gol subito, secondo me il Friburgo è soddisfatto. Chi ha da reclinare stasera la Juventus? Io credo che la Juventus non sia soddisfatta stasera di quello che è il risultato finale. È soddisfatta la prestazione, si è visto qualcosa di diverso, si è vista tanta verticalità, addirittura nel primo tempo ha preferito Miretti e Fagioli per andare a due giocatori dietro Vlaovic, quindi Di Maria e Miretti dietro la punta in un 3-4-2-1. Credo proprio che la Juventus questa sera negli spogliatoi abbia parecchio da recriminare e parecchio da interrogarsi, secondo me, proprio riguardo le condizioni fisiche della squadra. Perché questa squadra è sempre andata un po' con il freno a mano tirata durante questa stagione, l'abbiamo notato tante volte. E probabilmente c'è da rivedere qualcosa a livello di preparazione atletica, perché non credo che sia normale arrivare a marzo con una rosa comunque abbastanza lunga come quella della Juventus, con così tanti problemi continuamente di giocatori che sono affaticati, di giocatori che hanno risentimenti muscolari. Il conto è Chiesa che viene da un'operazione, se è il ginocchio ci puoi far poco, se è un infortunio traumatico ci puoi far poco. Un conto è Pogba che dopo l'operazione avrà sicuramente i suoi motivi per ritardare la condizione ottimale, anche se oggi è stato non convocato per una cosa differente, cioè un ritardo. Secondo me è giustissimo lasciarlo fuori, perché se c'è una situazione così, con la squadra messa così, inizia anche a ritardare gli allenamenti. Ora significa che non ci siamo proprio dal punto di vista dell'approccio a quella che dovrebbe essere la tua attitudine professionale e lavorativa. Da rivedere forse alcune priorità per Paul Pogba, giunto a questo punto. A maggior ragione dopo una stagione di questo tipo, dove è rimasto fuori tanto tempo, e non solo per problemi fisici, ma anche per scelte, per volontà, nel piano di recupero. Però qualcosa da rivedere probabilmente c'è, perché adesso dovrebbe essere quel punto della stagione in cui hai anche smaltito i carichi di lavoro della nuova preparazione, stai entrando nel finale della stagione, i punti diventano importanti, i punti diventano pesanti, è adesso che serve fare veramente la differenza sul campo. La Juventus era arrivata quasi al punto di aver recuperato tutti gli effettivi, le mancava praticamente solo Milik e Caio Orge. Secondo me questa sarà una serata amara. Sarà una serata amara perché avrai... Juventus Friburgo non finisce stasera. Juventus Friburgo non finisce stasera. Finisce nel ritorno di Juventus Friburgo, dove ti vai a presentare in Germania, nella foresta nera, con soltanto un gol, soltanto un gol segnato, un gol di vantaggio, e loro in casa sono una specie di fortino. E quindi attenzione, perché poi basta un episodio, basta l'episodio come la svirgolata del loro fuorigioco, anzi del loro fuorigioco, del loro fallo di mano, che sembrava fuorigioco, ma era fuorigioco inattivo, non era fuorigioco attivo, e quindi loro avevano trovato, nell'unica occasione che avevano avuto il gol del pareggio, per fortuna questa sera annullato. Quindi per quanto io sia stato soddisfatto alla prestazione, c'è questo punto interrogativo inerente al passaggio del turno, che è ancora tutto in discussione. Per me questa sera era la partita decisiva, davvero decisiva, per capire come orientare questa partita di eliminazione diretta di Europa League, ma soprattutto secondo me ci sarà da interrogarsi dal punto di vista fisico per diversi giocatori. Ora, io non so quale sia il problema di fondo, perché era già stato sostituito, Bonucci aveva giocato nel secondo tempo con la Roma, questa sera è successa la stessa cosa anche qui con il Friburgo, quindi sicuramente Alessandro avrà dei problemi che si porta dietro, che sono un po' grandi probabilmente, non è un problema che può passare nel giro di qualche giorno come ci aspettavamo, ha giocato 22 minuti e poi si è dovuto arrendere, su Chiesa invece ho veramente paura, perché non vorrei mai ritornare all'interno di un calvario che è durato anche troppo, anche troppo per Federico Chiesa e non se lo merita, non se lo merita proprio a livello umano, vedere anche nel back on track quanto ha sudato, quanto ha lavorato, quanto ci è stato male per quel ginocchio, non voglio nemmeno prendere in considerazione l'ipotesi. Quindi serata agrodolce, perché non si può essere pienamente soddisfatti, né per il risultato, né per i tanti interrogativi e per la tanta paura e preoccupazione nei confronti di alcuni calciatori. Juventus che secondo me stasera ha dimostrato di essere una squadra che può giocare con un ritmo diverso rispetto a quello che ha espresso in tante partite in questa stagione, le avevo chiesto qualcosa di più dal punto di vista di dare un giro di chiave, ecco io stasera l'ho visto, poi bisogna migliorare tanto sulle occasioni da gol, sugli ultimi metri, però questo è un inizio, cioè se la Juve inizia a farmi delle prestazioni di questo tipo e quindi aumentando magari anche la condizione atletica, sono assolutamente soddisfatto perché poi sono sicuro che il trovare uno più gol, due, tre, quattro, verrà di conseguenza. L'importante è non limitarsi a volerne fare soltanto uno. Poi stasera ha avuto purtroppo quell'infortunio di Chiesa a partite in corso ma è un po' di fuercambi che ha, tra virgolette, tagliato le gambe a questa cosa. Ma prima, anche poco prima di quell'infortunio, c'era stata quella ripartenza dove proprio Chiesa è andato a tagliare sul primo palo quando forse doveva ritardare un attimino e andare sul secondo, dato che la palla poi è andata proprio lì su quella ripartenza di Moise Ken. Quindi non mi è sembrato di vedere stasera un Juventus che si voleva accontentare, anzi mi è sembrato di vedere un Juventus che voleva aumentare i giri del motore rispetto alla prestazione non bella, secondo me, che ha fatto con la Roma in Serie A. E quindi adesso testa alla prossima partita di campionato con focus principale proprio inerente alla partita di ritorno col Friburgo perché nelle prossime settimane dovremo farci trovare pronti su un doppio fronte che in Serie A l'ultima l'abbiamo persa. Domenica sera giochiamo con la Sampdoria dopo un brutto pareggio a Riti Bianchi dell'andata, bruttissima prestazione della Juventus, ma era un'altra Juventus e dovremmo cercare di portare a casa tre punti contro una squadra che in questo momento sicuramente non è messa bene nella classifica del nostro campionato e poi iniziare a prepararci già al ritorno della prossima settimana perché non sarei contento di avere una brutta sorpresa perché stasera non si è riusciti a concretizzare. Loro, ripeto, tornano a casa secondo me molto molto soddisfatti di quello che è il risultato finale perché gli dà la possibilità di fare un miracolo in Germania perché non parliamoci in giro il favore del pronostico è tutto a favore della Juventus.